La riforma sottrae spazio di democrazia al popolo sovrano. In Sicilia in particolare riduce l'autonomia in quanto le materie legislative di competenza esclusiva della regione tornano in capo allo Stato. Ne comprime l'autonomia finanziaria, i senatori da 25 diventano 7. L'Udc vuole fortemente e consapevolmente che si voti per il no a questo referendum proprio perché la vita dei siciliani è collegata anche allo spazio di democrazia dell'Italia.